Ciao a tutti, ciao a tutti, ben ritrovati cari amici del canale YouTube, buon lunedì, buon inizio settimana, anche se a dire il vero c'è davvero poco di buono in questo inizio settimana del Milan. Vi ringrazio sempre per i like, le adesioni, i commenti, le iscrizioni, però tocca parlare di una situazione nuovamente negativa per quanto riguarda la squadra rossonena. Vorremmo parlare tanto, ma davvero tanto, di cose belle, cose positive, ma ci tocca commentare insieme l'ennesimo infortunio pesante a Ben Nasser, Ismail Ben Nasser. Stavolta non si è fatto male con il club rossonero, ma con la nazionale, ma è stata un'estate assurda quella di Ben Nasser, veramente assurda, giocatore che doveva andare via, doveva partire, doveva essere ceduto. Aveva e ha una clausola da 50 milioni, il Milan sperava di prendere almeno una trentina di milioni di euro, alla fine non sono arrivate offerte concrete, gli ultimi giorni poteva andare via in prestito, al Marsiglia, all'Atletico non va via, resta al Milan, non si allena per due settimane di fila, quindi salta gli allenamenti per le partite contro il Parma e la Lazio, non viene convocato, il Milan non lo utilizza, poi va in nazionale e si rompe. Va in nazionale, è incredibilmente il giocatore. Si fa male, evidentemente, per chi forse non si è allenato bene nel corso dell'estate, Ben Nasser che quindi si fa male al polpaccio, problema importante, serio al polpaccio. È stato già fatto un esame clinico in Algeria con la nazionale, è stato diagnosticato un problema diciamo così profondo, uno strappo profondo di terzo grado al polpaccio di Ben Nasser, questo vuol dire che rischia tre mesi di stop, tutto settembre, tutto ottobre, tutto novembre, tornerebbe per metà dicembre se tutto va bene. È anche vero che sono esami che sono stati effettuati con la nazionale algerina, il Milan vuole vederci chiaro, quindi per il verdetto finale bisogna aspettare gli esami che farà in queste ore a Milano con il Milan, però è chiaro che se, diciamo così, dalla risonanza esce una lesione muscolare di terzo grado al polpaccio puoi farci ben poco. Poi Ismail Ben Nasser non è nuovo a questi problemi, li ha già avuti, è soggetto a infortuni, quindi è possibile che lo stop sia lungo, sia complesso e l'infortunio sia abbastanza grave. Ora cosa succede? Succede che il Milan ha due possibilità. La prima possibilità è quella di sostituire Ismail Ben Nasser con delle risorse interne, quindi con giocatori già facenti parte del club rossonero, già tesserati con il Milan e sono praticamente i giovani Zeroli e Voss. Silvano Voss, nuovo acquisto, l'olandese che è arrivato dall'Ajax. C'è però un problema anche con questi due giocatori. Zeroli e Voss possono giocare in Serie A in campionato perché sono stati inseriti nelle liste della Serie A, ma Voss non può giocare in Champions League, quindi sostanzialmente comunque il Milan perde un giocatore in Champions League e senza Ben Nasser in Champions, il Milan ha praticamente quattro giocatori a centrocampo, che sono Loftuchik, Musa, Reinders e il nuovo arrivato Fofana. Questi sono, perché Pobega è stato venduto, perché Adli è stato venduto in prestito e quindi ora il Milan si ritrova con la coperta molto corta a centrocampo. Possono promuovere Zeroli, benissimo, però si tratta sempre di un giovane che dovrebbe essere aspettato, è un po' una scommessa. In campionato possono giocare sia Zeroli che Voss, in Champions l'olandese non può farlo. Attenzione, l'altra pista sarebbe quella di un ritorno sul mercato. In tanti dicono, ma perché allora a questo punto il MIA non va a prendere Rabiot, visto che comunque lo ha trattato nel corso dell'estate per rimpiazzare Ben Nasser. Seppure il MIA dovesse prendere Rabiot, attenzione, in termini di regolamento non potrebbe giocare in Champions League, perché la lista Champions è stata già consegnata, non è modificabile fino a febbraio, quindi fino al termine della prima fase, quella diciamo così dei gironi allargati, e quindi paradossalmente comunque il MIA andrebbe a spendere 7-8 milioni di euro di ingaggio per un giocatore che è fermo da giugno, che però può sfruttare solo in Serie A e non nelle grandi e importanti e affascinanti partite di Champions League. È una situazione, vi rendete conto, paradossale questa. Il discorso ovviamente non è solamente legato a Rabiot, anche se il MIA dovesse andare sul mercato e prendere un altro svincolato che non sia Rabiot, può giocare solo in Serie A e non in Champions, perché cosa succede? In Serie A puoi modificare la lista, tieni fuori Ben Nasser infortunato, metti dentro questo nuovo giocatore, in Champions non sarebbe possibile. L'altra mia domanda è, il Milan va a spendere 7-8 milioni di ingaggio per Rabiot, perché quello chiede, più i soldi alla firma per la mamma di Rabiot, per un giocatore che può giocare solamente in campionato? La vedo difficile, se dovessero farlo penso che sarebbe una mossa giusta, ma la vedo difficile per come ragiona questo club, fatemi sapere anche la vostra, dite anche la vostra nei commenti. Altra cosa, in molti dicono ma noi ricordiamo di un cambio in Champions League fatto quando si era infortunato Mignan, al suo posto era stato Mignan sostituito con Tatarusano. Quella del portiere è l'unica eccezione per quanto riguarda la compilazione della lista Champions, la lista UEFA. Solo in caso in cui si fa male un portiere e l'infortunio è grave e lungo di oltre un mese, allora in quel caso lo puoi andare a modificare, a sostituire mettendo Tatarusano al posto di Mignan, era quel caso lì. Questa regola non si applica con i giocatori di movimento, quindi il Milan per una gestione diciamola tutta sicuramente non corretta di questa situazione a centrocampo si ritrova a inizio campionato con la coperta corta a centrocampo sia in Serie A ma soprattutto in Champions League. Quattro giocatori per due ruoli, se vuoi fare il 4-2-3-1, addirittura a quattro giocatori per tre ruoli se vuoi fare il 4-3-3. Mi sembra ora complicato che il Milan possa passare al 4-3-3 avendo solamente un giocatore a disposizione come sostituto. Mettiamo caso che il Milan giochi con il 4-3-3 e giochi con la linea mediana, l'off-to-cheek, Fofana-Reinders, titolare, l'unico sostituto a disposizione. In prima squadra è Musa, l'unico. deve attingere dal Milan futuro e andare a prendere per esempio Zeroli e Voss per cercare di portare quanti più centrocampisti in prima squadra. Situazione paradossale, assurda, evidentemente anche la gestione di Benasser come stiamo dicendo da diversi giorni non è stata una gestione intelligente. Altra cosa, Benasser che ha 26 anni e riduce da una serie infinita di infortuni, nei momenti in cui viene escluso, se dovesse essere così, dalla lista della Serie A per far spazio ad uno svincolato, perderebbe ancora di più valore sul mercato. E chi prende un giocatore sempre rotto che è fuori lista al Milan con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, sono tantissimi 4 milioni di ingaggio, tanto è vero che in estate nessuna squadra ha bussato per Benasser, tranne il Marsiglia che però ha offerto al Milan il prestito. Cioè l'unica cosa che può fare il Milan in questo momento, in previsione di gennaio, è vendere Benasser in prestito, che però ha un contratto fino al 2027, 30 giugno del 2027. Quindi sono ancora tre anni di contratto pieni. Purtroppo poi anche un po' di sfortuna attorno a questo giocatore, che però secondo me nell'ultimo periodo non si è allenato a perfezione, perché probabilmente stava pensando di voler andare via. E ora se torna a dicembre con un infortunio alle spalle, già grave, quello al ginocchio, mettiamoci anche questo al polpaccio, poi ci sono le convocazioni per le partite in Coppa d'Africa, insomma, solita storia e solito iter per Benasser. Veramente tutto incredibile. Siamo a inizio stagione e la situazione a centrocampo è già complicata. Se vi va lasciate un like, attivate la campanella e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube, fatemi sapere cosa ne pensate. Nei commenti ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie. Grazie a tutti!